Buongiorno a tutti, innanzitutto io defino subito una certa emozione che solitamente non mi attanagna nel modo in cui succede oggi, ma perché appunto la circostanza di liberarmi in questo luogo che come è stato detto per me non è un luogo neutrale, le persone che sono presenti, non sono persone a caso, mi rende particolarmente emozionato, anche su questo poi farò delle puntate particolari, ovviamente quindi prendo tempo sui saluti, ma convinti, innanzitutto il capo della Polizia, il Presidente Lamberto Giannini, che ringrazio per l'invito e saluto, ringrazio per quello che ha detto, a cui mi lega una profonda amicizia e anche precedenti di lavoro in comune, la direttrice Anna Maria Di Pavo, che dirige da qualche tempo, che è da fuori in maniera avveduta e proficua, il Presidente Giovanni Salvi, a cui mi lega una profonda stima e una sincera amicizia se mi consente di dirlo, anche su quelli che sono i contenuti della sua lezione magistrale, se ho preso degli appunti e dirò qualcosa. Poi però mi dovrete consentire, questo è stato anche un po' casa mia, per cui ci sono delle presenze, io ovviamente sento di avere rapporti di amicizia e di colleganza con tutti, ma qualche riferimento ve lo dovete consentire, c'è l'Azutte Professore Olivero Di Di Berto, che con la sua intellettuale raffinato, che è ex Ministro della Giustizia e con la sua presenza qualifica anche quello che avviene in questa scuola, quindi la qualità di quello che avviene in questa scuola, il Prefetto Alessandro Panza, lo consentirete, è stato il mio capo della Polizia, ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con lui, è stato anche un maestro, lo dico sinceramente, quindi per quasi 4 anni abbiamo collaborato insieme. Poi dei riferimenti degli ultimi tempi, parto dalla delegata del Sindaco Metropolitano di Roma, il Procuratore Lo Vori, abbiamo condiviso importanti fatiche negli ultimi tempi, in due anni e quasi in mezzo straordinari che ho fatto alla Prefettura di Roma, i rappresentanti delle altre forze di Polizia, che vedo in platea perché è molto importante che nella scuola della Polizia di Stato, il principale tempio della cultura, della dirigenza della Polizia di Stato, ci sia la presenza costante dei colleghi delle altre forze di Polizia, lo dico anche da ex Vice Capo per il coordinamento e la pianificazione delle forze di Polizia, perché insieme alla Polizia di Stato, alla vicizia, alla colleganza, alle abitudini che si sono consolidate negli anni, danno il quadro di quello che è il sistema delle forze di Polizia italiane, che lo possiamo dire, io ho anche qualche esperienza in passato, proprio quando ero Vice Capo, di confronto con gli altri sistemi di Polizia, è il migliore al mondo, questo ce lo possiamo dire anche pubblicamente. I colleghi prefetti, ovviamente me lo consentirete, non li cito tutti, intendo rappresentati nella presenza del Capo di Gabinetto, amico Bruno Frattasi, ma tutti, tutti i colleghi i prefetti, anche quelli che oggi non sono, qui presenti ma anche i colleghi, mi consentirete i dirigenti di Polizia a vari livelli, quindi io sono stato di casa qui e con molti di loro condivisi momenti importanti, prefetti e dirigenti di Polizia della mia carriera, alcuni dei quali hanno visto addirittura quasi 40 anni fa, 33-34 anni fa i primi passi addirittura che ho fatto nella casiera, quindi a tutti loro non riesco a fare distinzione, adesso che ho assunto meritatamente questa funzione, non riesco a fare distinzione di colleganza, credetemi seriamente, quindi vi accomuno tutti come compagni di un percorso di vita che ovviamente io ho trascorso nell'amministrazione più della metà degli anni di vita che finora ho vissuto e quindi non può che essere così. L'Alexio Magistralis di Giovanni Salmi è stata, vabbè, non devo dirlo io, seppure con la necessità della simpisi, ma è un suo pregio quello di riuscire a dire in poche parole cose importantissime, è stata una cosa molto bella, molto profonda, non solo per i contenuti intrinseci e poi da par sua anche questo padroneggiare anche aspetti strettamente tecnici, poco inclini nella generalità dei funzionari della magistratura, anche dei funzionari pubblici, quindi indici anche di una competenza specialistica, ma declinati in una maniera che, ecco, quei legami, rapporti anche con la giurisdizione, quindi quella trasversalità nei problemi che riguardano le nuove tecnologie che è molto significativo che l'inaugurazione dell'anno accademico di quest'anno parta da questo tipo di tema, perché questa è una scuola che deve formare anche a questo i suoi giovani discenti, cioè a comprendere come l'attività di polizia non è più come spesso è percepita all'esterno, come una funzione, una qualità evidentemente tattica, ma richiede sempre più una visione strategica, una visione strategica che quindi sempre più deve andare su temi che hanno una trasversalità assoluta su argomenti che solitamente, tradizionalmente non hanno riguardato l'attività di polizia. Questa trasversalità in settori cruciali per la vita del Paese, come anche la cronaca recente dimostra appunto quello che è il rapporto con le nuove tecnologie, quindi sviluppare tutta è stata fatta riferimento per esempio all'agenzia che è stata creata, a capo della quale è stata messa una dirigente di polizia, quindi ha visto la valorizzazione di quella che è appunto una competenza e un'esperienza che è stata sviluppata a partire da questa scuola, ma anche la trasversalità su altri temi importanti di grande attualità, lo sviluppo economico, la tenuta socio-economica che è uno dei temi che ai noi registra già i primi segnali, ma che ci impegnerà nei messi futuri. Tutto questo non vuol dire che dobbiamo dimenticare i temi tradizionali, primo tra tutti la lotta alla criminalità organizzata, questa è una scuola, questo lo dico soprattutto ai discenti, sappiatelo e portatelo in orgoglio, che ha formato i migliori investigatori al mondo che poi hanno combattuto e in qualche modo sconfitto la criminalità organizzata, dando il contributo insieme alle intelligenze provenienti dalla magistratura e ce ne sono alcuni esempi qui oggi, che ho citato prima, dando il contributo anche per formare un quadro normativo di investigazione e di repressione che è di esempio nel mondo. L'importanza sempre di mantenere l'attenzione su quelli che sono i temi della criminalità organizzata, quest'anno hanno assunto una sollecitazione particolare all'orquando abbiamo fatto anche la celebrazione di momenti importanti, che cito uno tra tutti, il quarantennale dell'uccisione del prefetto generale dei Carabinieri Carlo Roberto dalla Chiesa, ma tanti altri potremmo citare, citare come esempi quindi da celebrare non solo e non tanto per il dovere di piangere il sacrificio dei nostri colleghi, dei nostri fratelli, ma perché dobbiamo portare la consapevolezza che il loro sacrificio non è stato affatto inutile per quello che vi ho detto, pensate quello che successe all'indomani dell'uccisione dell'onorevole Datorre, quindi da lì partì lo slancio e l'impulso per l'adozione di un quadro normativo che poi si è sviluppato negli anni e che ancora adesso produce i suoi effetti anche in termini di modernità, di rincorrere gli interessi criminali non più e non solo sul piano della violenza che viene effettuata su strada, ma anche dal punto di vista degli interessi principali, quindi di seguire, di rintracciare e di reprimere gli interessi economici. Tutto questo non solo è un dovere monario di non dimenticarlo, ma anche perché ha una sua attualità, perché sapete tutti che abbiamo il grande impegno che ci porta all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che per quello che ci riguarda come amministrazione non solo ci impegna in un'attività, innanzitutto di sviluppo della realizzazione del piano, del monitoraggio della realizzazione dello stesso nei confronti dei principali attori che sono gli ambienti territoriali, ma anche di mantenimento di un'adeguata cornice di sicurezza intorno all'utilizzazione di questi importanti risorse. Proprio oggi il mio ufficio sarà impegnato in un importante incontro con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, Lance, proprio per rafforzare, trasmettere, trasferire su quelle che saranno le importanti sfide della realizzazione del piano, trasferire lì quelle che è l'esperienza e la competenza dell'amministrazione su quella che banalmente si sintetizza nella definizione di prevenzione antimafia. Tutto questo si nutre, diciamo, quello che dicevo prima, l'attività di polizia non è solamente tattica, ma anche capace di trasferire, di dare, di conferire, di scendere una visione strategica. Quello che caratterizza la nostra, la vostra capacità è la capacità di analisi. Voi avete qui, come capo della polizia, un rappresentante storico dello sviluppo di questa capacità di analisi della polizia di Stato, non l'ha fatto in specie, ma potremmo citare altri esempi anche nelle altre forze di polizia. Lo dico come esempio perché lui è stato un eminente esponente dello sviluppo di questa capacità di analisi, ad esempio su un altro dei versanti che negli anni scorsi ha impegnato tutti i paesi dell'Occidente e dell'Europa in particolare, che era quella della prevenzione del terrorismo, soprattutto quello di matrice fondamentalista, che adesso noi tendiamo, non dico a dimenticare, ma a immaginare che sia compresso e che sia diventato in qualche modo recessivo, ma che invece dobbiamo stare molto attenti e quindi confidiamo molto nelle capacità di intuizione, di analisi, di monitoraggio continuo che l'amministrazione della Polizia di Stato riesce a porre in essere per fare in modo che non ci siano più nuove episodi che hanno in modo così luttuoso caratterizzato la vita delle nostre comunità. Oggi, al di là di questo, la domanda di sicurezza si riespande, perché non sono solo questi temi classici, non sono solo quelli che abbiamo detto, e anche la relazione che ci ha tenuto Giovanni Salvi con queste interrelazioni, con questi settori tradizionalmente apparentemente esterni al nostro mondo, invece ci dice che la domanda di sicurezza si riespande, si riespande poi su altri versanti, qui mi riferisco alle esperienze recenti che ho fatto da Prefetto di Roma con il Procuratore Rovoi, con la città metropolitana, anche su settori che riguardano la necessità di curare la paura della cittadinanza. Noi siamo una nazione, la cui popolazione invecchia, che vede aumentare il degrado degli ambienti urbani, ma questo non per colpa degli amministratori, per una serie di amministrazioni territoriali che in qualche modo sono responsabili di quelli che sono gli assetti urbani, il contrasto al degrado, sono state troppo a lungo a tributare le risorse che non erano adeguate per poter far fronte a queste. Quindi adesso un combinato disposto di crisi socio-economica, di popolazione che invecchia, di mancata cura adeguata, di ambiti territoriali importanti, fa sì che la popolazione abbia sempre più paura rispetto a fenomeni che ci possono apparire nella vita quotidiana marginale, secondaria, ma che in realtà sono fenomeni di cui dobbiamo farci carico anche quelli che sono i piccoli, grandi episodi reiterati, consolidati di disturbo, di degrado, di illegalità che avvengono soprattutto nelle aree metropolitane. Dobbiamo stare molto attenti se cresce la paura e si riespande il bisogno di sicurezza, perché lo dobbiamo affrontare sicuramente, dobbiamo utilizzare questa capacità di visione strategica, di analisi che proprio a partire da scuole come queste dobbiamo sviluppare, ma dobbiamo prestare attenzione anche alla strumentalizzazione di questa paura, dobbiamo evitare che ci sia un pericolo di avvitamento della protesta, ne abbiamo già qualche primo segnale. Su questo io dico solo e lo dico non solo a tutti i presenti, ma lo dico soprattutto ai discenti e quindi auspini che si insegni soprattutto in questa scuola, occorre equilibrio e moderazione, veramente questa è la vera arte che deve utilizzare il dirigente di polizia nel momento in cui viene preparato ad affrontare le sfide future. Io confido e plaudo alla competenza e all'equilibrio che finora, pressoché sempre, le forze di polizia hanno utilizzato per garantire la democrazia. Io voglio fare un'altra citazione di una grande personalità, di una grande intelligenza che è stata di casa in questa scuola, quella di Carlo Mosca, che aveva dedicato una connotazione, aveva definito la sicurezza un diritto di libertà, questo spesso nei commenti si dimentica, quando si vede l'attività di polizia dispiegata su strada, nell'ordine pubblico soprattutto, si dimentica di provare a immaginare perché succedono certe cose e quale sia il bene primario che ci si promette di preservare. Quindi moderazione ed equilibrio, questa è la prima cosa che io mi permetto di dire alla direttrice, di porre in qualche modo nel programma di questi ragazzi, mi perdonete se vi chiamo così, a cui dico oggi vestite tutti in divisa e la divisa portatela con non voglio sempre, non abbiate mai il timore e il dubbio che possa essere un elemento un po' antico, un po' barocco, un po' ideologizzato, la divisa deve rimanere sempre per voi un riferimento morale, quando avrete delle difficoltà, quando indubbiamente incrocerete delle complicazioni, ricordate che nella divisa in qualche modo si sintetizzano tutti questi valori che in qualche modo vi potranno suggerire e consigliare il comportamento che dovrete avere. Io dico solo e mi avvia conclusione, io sono molto responsabilizzato, non voglio utilizzare, ho una certa consacurezza e ho il dovere anche di sentirmi sicuro di me stesso, però avverto tutto il peso della responsabilità di esercitare la funzione che mi è stata conferita, per me è imprevista, soprattutto quella di autorità nazionale di pubblica sicurezza, secondo quelle che sono le previsioni previste dalla legge 121 dell'81 che è anche la legge storica della rinascita della Polizia di Stato ad ordinamento civile e tra le espressioni di questa responsabilità io anticipo già che farò quanto tutte le mie forze per poter rafforzare l'organizzazione delle dotazioni e della funzionalità delle forze di polizia e soprattutto di proteggere le forze di polizia, non perché le stesse siano sotto attacco da parte di qualcuno, voglio definire bene questo termine della protezione. Sappiate che il vostro ministro e la mia persona sarà sempre dalla vostra parte, io chi dispone del mio numero di telefono e l'ha potuto vedere nel profilo di Whatsapp uso un motto, ubicomoda, eius e pincomoda, per cui mi avvantaggerò, mi gonfierò il petto dei vostri successi, i vostri insuccessi, i vostri errori, vi auguro che non ce ne siano, saranno i miei errori e i miei successi, quindi il ministro dell'interno sarà sempre dalla parte della polizia.